S'aggira per l'Europa una paura, chiamata comunismo dai padroni, riconosciuta come duratura dai potenti di tutte le nazioni. E se risulta questa la lettura di Papa e Zardis, Guerri e Capoccioni, concludersi può con la sentenza che i comunisti sono una potenza. Pertanto senza fronzoli e senza novelle finte e prive di contesto, si spieghino gli scopi e la tendenza, il modo di vedere e tutto il resto. Lo sappia il mondo senza riverenza che i comunisti fanno un manifesto, riunendo a Londra i membri del partito, in varie lingue partirà spedito. Da quando l'uomo è nato ed esistito e sulla terra mosso i primi passi, la storia, questo è un fatto definito, è sempre stata lotta tra le classi. Il libero allo schiavo è riferito, poi servi della gleba e popol grassi, pugna il vassallo con l'imperatore, lotta l'oppresso contro l'oppressore. Ma non sempre ci sorte un vincitore da tale contrasto e da tale situazione. E quest'eterno gioco con vicore porta il progresso e la trasformazione o alla rovina l'uno e l'altro attore. Nell'oggi resta un'unica tensone e il tempo industriale ci ha portato la borghesia con il proletariato. Il mondo si è così semplificato e il capitale senza ipocrisia immerce ogni persona trasformato, che faccia il pane o canti la poesia, ma nello stesso tempo ha foraggiato chi poi distruggerà la borghesia perché il proletariato, con coscienza, di classi e sfruttatori farà senza. Se sono conscienti sono a conoscenza, d'essere la maggioranza è pur sfruttata, e i comunisti che ne sono l'essenza questa realtà gliel'hanno rivelata. Sarà lotta violenta all'occorrenza, si abolirà la proprietà privata, solo il lavoro darà il nutrimento e al fine finirà lo sfruttamento. Qui la sostanza del proponimento, che supera l'incerto socialista contraddicendo ogni intendimento conservatore, feudale o d'utopista, e avanza senza tregua o cedimento verso la prospettiva comunista. Ognun di libertà colga i suoi frutti perché la libertà la colgan tutti. Nelle nazioni e dei paesi frutti dei comunisti troverà ragione. La proprietà privata più non sfrutti. Spezzino gli sfruttati la prigione. Gli vecchi ordinamenti siano distrutti con la tenacia e la rivoluzione. In questa lotta giusta senza pari, unitevi dunque, proletari.